Gli allievi del liceo Medi racconteranno la storia di Batipaia su Wikipedia, la celebre enciclopedia online accessibile a tutti, attingendo ai tesori dell'archivio di Stato di Salerno. Il progetto è stato ideato e promosso dai volontari di Wikipedia che lo hanno portato avanti tra il 2017 e il 2018 con di alunni di tre classi del liceo scientifico Medi. Alessandra Boccone, Claudio Forziati, Tania Maio e Remo Rivelli sono i quattro esperti wikipediani che hanno avviato la partnership con la scuola. Gli studenti hanno elaborato accurate descrizioni dei monumenti più rilevanti della città e hanno cercato di offrire al mondo intero la visione di una città istituita soltanto 89 anni fa ma con una storia pregressa secolare. Responsabile della didattica è Tiziana Dedonato. Con la guida dei docenti, l'esperienza dei volontari del sito e l'entusiasmo dei ragazzi, quei manoscritti e quei testi storici sono finiti sull'enciclopedia online più famosa al mondo tradotti in varie lingue. Un progetto che recupera il passato, che diventa presente e futuro, racconta in un'intervista pubblicata dal quotidiano La Città la preside Silvana Rocco che sta avviando una convenzione triennale con Wikipedia Italia. Grazie a tutti.